Solo nel weekend da venerdì a domenica sono stati riscontrati 87 nuovi positivi a Torre del Greco, a preoccupare ancora di più la totale assenza di guarigioni nello stesso periodo. Salgono così a 605 tuttora positivi nella città del Corallo, con 29 persone ancora ricoverate in regime ospedaliero. Fra sabato e domenica sono stati 114 nuovi positivi anche a Torre Annunziata, un nuovo boom di positivi che va ad aggravare la già critica situazione cittadina. Togliendo le 58 nuove guarigioni sono 836 cittadini attualmente positivi, di cui però solo 14 ricoverati con sintomi. In aumento i contagi anche a Portici. Nella prima settimana di febbraio sono stati eseguiti 1.7 tamponi sui cittadini, con un esito in nuovi contagiati pari a 129, con una percentuale di positivi sul numero di tamponi del 12,8%. Incremento sostenuto anche a Castellammare e Stabbia, con 64 positivi registrati sabato su 247 tamponi, 19 di questi sono minori di 17 anni. Nello stesso giorno sono state riscontrate anche 29 guarigioni. Meno preoccupante la situazione a San Giorgio a Cremano, in una diretta ai venerdì, il sindaco Zinno aveva confermato che i positivi totali in città fossero solo 173. Nell'intera settimana erano stati registrati solo 9 nuovi contagi. 19 invece i positivi registrati è nello stesso arco di tempo Ercolano, che tuttavia raggiunge quota 417 cittadini positivi.